E' il delegato del governo a seguire da vicino le vicende legate alla ricostruzione, ruolo che fu prima di Letta, Gianni e poi di Fabrizio Barca, ma per un motivo o per un altro non ha mai riscontrato la popolarità, almeno tra una parte delle istituzioni e dei cittadini, di cui potevano contare lo zio dell'attuale premier e l'ex ministro per la coesione territoriale. E chissà che accoglienza troverà il prossimo 8 gennaio Carlo Trigilia, erede di Barca sia alla guida del di Castero, sia nello spinoso ruolo di interfaccia dell'esecutivo nazionale con il territorio aquilano, quando tornerà all'Aquila, anche se lo scopo della visita non è ancora ben chiaro. Ieri il sindaco Cialente ha annunciato la visita durante il consiglio comunale, non risparmiandosi in dubbi interrogativi sulle finalità di quella che ci si augura non sia l'ennesima passerella, condita da annunci spot destinati a morire nell'arco di 24 ore. Anzi, sembra che i famosi 100 milioni di fondi Cipe, destinati alle attività produttive, che servirebbero, tra le altre cose, a finanziare l'arrivo dell'Accord Phoenix, rilancio del polo farmaceutico e del Gran Sasso, non saranno disponibili prima della metà di quest'anno. Cialente, che come altri rappresentanti del territorio, non ha mai lesinato critiche a Trigilia, la pezzopagna addirittura parlò di ministro Tesaparesido, all'epoca dell'approvazione della legge di stabilità, quando si dovevano trovare fondi per l'Aquila. Chissà cosa dirà il ministro quando lo vedrà personalmente e, soprattutto, se avrà il coraggio di battere i pugni sul tavolo, per chiedere che le impasse che si prospetta all'orizzonte per il rilancio economico si sblocchi. Ma dal Consiglio è arrivata anche un'altra notizia. Si è consumata, infatti, l'ultima puntata nella rottura tra amministrazione comunale e l'imprenditore Berardino del Tosto, proprietario dello stabile in via Roma, dove sono ubicati attualmente diversi uffici comunali. Un rapporto contraddistinto da ricorsi e contro ricorsi relativo al parcheggio del supermercato in via Vicentini, per il quale l'imprenditore, rivendicandone la proprietà, pretendeva il pagamento da parte degli automobilisti, incontrando puntualmente la resistenza da parte del Comune. Con l'approvazione della mozione presentata da consiglieri di Cesare e Daniele, sindaco e amministrazione sono impegnati affinché si è emanato un nuovo avviso pubblico per la ricerca di nuovi locali, a beneficio degli uffici comunali attualmente dislocati in via Roma. Il documento, infine, chiede che venga condotta un'indagine da completarsi in due mesi per verificare se altri stabili che il Comune è in affitto appartengono a società che non hanno temperato obblighi convenzionali negli immobili in locazione o in altri stabili di proprietà dello stesso locatario.